E' a facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle mozioni presentate, e chiesto di intervenire il Vice Ministro per l'Economia Garavaglia. Prego. Sì, grazie Presidente. Si mi era stato anticipato. Intervengo velocemente in replica alla discussione. La posizione della Lega è nota, è nota sulla TAF da tempo. Quindi invitiamo a votare a favore della TAF e contro chi blocca il Paese. Grazie Presidente. Grazie Signor Presidente. Intervengo non a titolo personale, ma a nome del Governo. Ringrazio tutte le colleghe senatrici e i colleghi senatori che sono intervenuti in questa discussione per esprimere ancora una volta i pareri in maniera chiara ed esplicita su questo argomento. Il Governo ha già espresso in questa, nella sede della Camera, il proprio parere. In questa sede, al fine di acquisire ulteriormente l'orientamento del Parlamento, si rimette al parere di questa Assemblea. Grazie.